Imparando a perdonare, ci si avvicina al Signore e alla sua sconfinata misericordia. Lo ha sottolineato Papa Francesco durante la Messa a Santa Marta. Partendo dalle letture della liturgia, il Pontefice ha parlato dell'infinita capacità che Dio ha nel perdonare le nostre colpe, tanto completa da dimenticarle. Proprio partendo da questa perfezione, pressoché incomprensibile all'uomo, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti di preparare, soprattutto in questo tempo di Quaresima, il proprio cuore al perdono del Padre Celeste, a riceverlo e a fare poi altrettanto con i propri fratelli. Quando Dio perdona, dimentica. Tutto il contrario a noi, alle chiacchiere. Ma questo ha fatto quello, ha fatto quello. E noi abbiamo, di tante persone, la storia antica, media, medievale, moderna. E non dimentichiamo. Perché? Perché non abbiamo il cuore misericordioso. Fa con noi, secondo la tua clemenza, disse questo Giovanni Asaria, secondo la tua grande misericordia. Salvarci. È un appello alla misericordia di Dio, perché ci dia il perdono e la salvezza, e dimentichi i nostri peccati.